Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostradena 11, 3 km di coda per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Ovest e Firenze Peretola e code a tratti tra Pistoia e il Viglio Colla 1, il tutto in direzione Firenze. Qualche problema in FIPRI per mezzo pesante e ribaltato, segnaliamo tratto chiuso tra Empoli Est e Ginestra verso Firenze. Per tratto chiuso si sono formati 4 km di coda tra Empoli ed Empoli Est, ancora una volta verso Firenze. Traffico inoltre è bloccato tra Montelupo e Ginestra. Chi viaggia verso Firenze deve uscire ad Empoli Est. Consigliamo percorsi alternativi tramite la statale 67 o l'autostrada a 11. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo possibili disagi per soste irregolari in via San Donato, via Respighi e via Novelli. Moversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!